Benvenuti in questa mostra multimediale Custos 4.0, Michael e l'Europa, i tre monti consacrati a San Michele. In un'era in cui purtroppo assistiamo a continue trasformazioni dove il digitale riveste un ruolo sempre più importante, cambia anche la modalità di fruizione culturale e la promozione del patrimonio culturale. Cambia il modo di parlare con le persone, cambia anche il modo di vivere l'arte ed è secondo questo nuovo modo di promuovere il territorio che nasce questa mostra. Una mostra che presenta i santuari sulle tre montagne che sono state dedicate all'Arcangelo San Michele, che da secoli sono meta di pellegrinaggi. Mont Saint-Michel in Normandia, la Sacra di San Michele, monumento simbolo del Piemonte e Monte Sant'Angelo, sul Gargano in Puglia, che assume una veste nuova. La modernità, l'innovazione tecnologica incontra la storia e la trasforma, rendendola vicinissima ai giorni nostri. Perché abbiamo pensato di digitalizzare Custos? Perché Custos rappresenta la sintesi anche, se vogliamo, del Festival Michele. Un progetto evento, un grande contenitore in grado di tenere insieme quella che è stata lanciata appunto da questa amministrazione come strategia internazionale, legata soprattutto alla creazione della rete, dei grandi centri micaelici. Un evento, il Festival, dalla visione a lungo termine, che mira a costruire una strategia per la promozione del territorio a livello internazionale. Ed è infatti proprio il 4 maggio del 2019 è stato firmato il gemellaggio internazionale con Mont Saint-Michel, mentre nel 2018 il patto di amicizia con il comune di Avigliana, dove appunto è collocata la sacra di San Michele in Piemonte. Questa è la nostra strategia. Noi siamo convinti che oggi le destinazioni turistiche non si possono promuovere da sole. Per questo continua il lavoro in rete, per rafforzare e per affrontare quelle che sono le sfide sempre più globali per una città come Montesant'Angelo, che detiene ben due riconoscimenti nella prestigiosa lista UNESCO. A questo punto non mi resta che invitarvi alla mostra. Lasciatevi perdere tra le meraviglie, tra i bellissimi santuari. Lasciatevi guidare nella visita sotto la protezione delle ali del nostro Arcangelo Michele. Permettetemi un ringraziamento particolare all'Università di Bari, al professor Otranto. e adesso immergetevi nella mostra tra queste meraviglie, tra questi santuari che hanno tutti un comune denominatore, la potenza di un Arcangelo che protegge i suoi luoghi sotto le sue ali.